Brescia ha rischiato di essere dentro la dolce vita la scorsa estate Ci conosciamo e dico cazzo guarda c'ho sto pezzo E lui mi dice guarda il pezzo mi piace però devo pensarci, devo capire, devo capire un po' di robe Alla fine ci ho pensato troppo e... Muschio, microfono, videocamere e luci Ospiti diversi, senti nuovi amici 20 minuti, un'ora di argomenti Imprendibilità, giochi, l'aripotenza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti Muschio selvaggio Gigolo massaggio Ciao ragazzi benvenuti a una nuova puntata di Muschio selvaggio Ospite con noi per questa nuova puntata il mitico Brash Mentre applaudivo mi sono dato il microfono in faccia che inizio Come stai? Bene, bene E' la prima volta che ci conosciamo di persona Realmente Realmente Poi racconteremo, c'è un aneddoto tra me e lui Esatto Stava per nascere una canzone Poi la raccontiamo dopo però Adesso è troppo... Troppo freschi Troppo freschi, troppo freschi No come va? Come sta andando? Bene, sta andando bene Guarda, ne torno da... Sono tornato da due settimane da un viaggio lunghissimo di un mese fuori Un mese intero? Un mese, 35 giorni circa 35 giorni che bello Dove? Tanti Sono stato in Sud America Ho fatto Argentina, Buenos Aires, Patagonia E poi Bolivia, 20 giorni Com'è? La mia tante è della Bolivia E un giorno torna con delle foglie di coca Certo Ma la domanda è... E' legale? E' legale, ce l'ho portata anch'io Cioè si possono portare? Sì, l'ho portata, l'ho portata anch'io Ti dico, io pensavo che appunto la coca avesse comunque un'aurea particolare Noi la riconduciamo tutti alla cocaina Noi chiaramente a quell'indirizzo lì Vabbè, là le vendono, ci sono i sacchi, nelle tende, nei negozi Ti prendono le manciate di foglie di coca e te le danno a 5 pesos Che sono tipo 10 centesimi Ehm... Cos'è? Tipo bere un caffè? E bere un caffè Ti aumenta il battito cardiaco un po' più di un caffè secondo me E chissà come mai, non so perché sia legale portarle in Italia Ehm... Perché la pianta? Perché solo pianta È una roba che forse il principio attivo reale viene fuori con la lavorazione Sì, vabbè, ovviamente la cocaina è lavorata Però comunque è una foglia Boh, chissà perché, che strano Sì, non lo so neanche io in realtà Spero che sia quello Tra l'altro la pianta di coca è una pianta infestante Quindi se metti la pianta di coca ti mangia tutta la fascia Ah sì, se la metti in giardino ti mangia tutta Ti mangia tutto Quindi non coltivate la coca ragazzi Se non coltivate la coca E se nel caso state attenti Non sappiamo le quantità Esatto, esatto Quindi che esperienze Cioè che cosa ti lascia un viaggio di un mese? Lontano dal tuo paese Dalle tue tradizioni Allora, intanto Credo che siano cambiati i tempi un po' per tutti Quindi il fatto che comunque tu parti Lo dico un po' quasi contro no? La poetica del viaggio Cioè il fatto che tu parti con un telefono in mano Quindi sei costantemente collegato anche alla tua vita vecchia Capito? Vedi tutto quello che fanno i tuoi amici Ti fa sentire comunque sempre A casa Abitante del mondo Però ti lascia tanto Perché tu ovviamente Solite cose Cioè scopri nuovi usi, nuovi costumi E ti Hai degli alti e bassi Cioè io ho avuto degli alti e bassi Capito? Di che tipo? Eh, non ti dico che volevo tornare a casa Ma magari Andavo a vedere una cosa Poi dici No ma ne sto cercando un'altra Sai che non l'ho capito? Cioè Quando ero là Andavo a vedere delle cose Tipo Perché uno pensa che un mese sia tanto Però per fare il giro che hai fatto tu Effettivamente non è tantissimo Non è tantissimo E poi un'altra cosa È che io Mi hanno sempre detto Ma andiamo a New York A Los Angeles Nelle grandi city Quindi nell'epoca moderna Invece dicevo No voglio prima Farmi Non so Tailandia Messico Bolivia Argentina Patagonia Quindi posti rurali Posti incontaminati Che poi nulla è incontaminato Nel 2023 Però un po' meno Un po' meno Un po' meno Ma in stream E poi dopo cronologicamente Andarmi a vedere le città Chiaro Ma tutto questo ai fini di una Cioè tipo Parto un mese Ai fini della scrittura Cioè di scrivere dei pezzi Anche Però non sono partito la Quella di fare musica Cioè quindi non è Non sei andato lì per dire Vado per scrivere dei pezzi No Tipo mi metto sulla montagna È capito E arriva il fulmine Ma va che ci sta È una bella immagine Certo Certo Però credo che Col fatto che deve arrivarti In maniera naturale Cioè andarla a ricercare Poi assiduamente Stai vicino al micro Scusami No sfigurati Andarla a ricercare assiduamente Poi magari ti delude Ok Ma qui ti è capitato di scrivere Mentre eri lì? Sì Qualcosina Sì Cambia vero scrivere fuori da casa? Cambia Sì Perché è come se avessi Meno freni Sì Cioè da un lato potrebbe essere meglio Hai i suoi pro e i suoi contro Secondo me Cioè se tu sei nella caglie Con i bambini che giocano a calcio Nel campetto Che sono tutti sporchi Senza scarpe Eccetera eccetera Scrivi delle cose che magari qua In casa a Milano Non scriveresti mai Non scriveresti mai Tu scuola genovese Sì Ma vivi a Milano? Vivi a Milano Sei convertito Sono convertito sì Sei passato al lato oscuro Cazzo Come tutti gli artisti No dai Alla fine sono un'ora e mezza Me la racconto così Però è un altro stile di vice È un'altra mentalità Tra Genova e Milano Sì No 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 Ho imparato diciamo a lavorare Hai imparato a lavorare? A lavorare Sì Come nasce Bresch? Raccontami un po' gli inizi Gli albori Innanzitutto di che anno sei? Voglio farmi del male Io sono del 96 Ok non mi hai fatto così tanto male Indovina Te sei giovane Te sei 92 91 90 Grazie Grazie 89 89 89 E' mio cugino Io e tuo cugino Salutiamo Sì L'89 purtroppo L'89 L'89 Sì me la gioco Me la gioco Me la gioco Quindi come nasce Bresch? Sì Ma Bresch Nasce in un paese In un paese di fianco a Genova Che io reputo essere Genova Me la racconto anche in questa maniera Vicino a Genova Sì è attaccato E basta Fondamentalmente Ha una vita abbastanza comune Da piccolino Mio padre era un portuale Del portuale del porto Il classico scaricatore di porto Mia madre invece aveva Diciamo Ereditato l'impresa Di mio nonno Di un'impresa tipo Edile E abbiamo avuto Abbiamo avuto un'infanzia abbastanza serena Poi Ero agitato come tutti i bambini Poi ho iniziato a fare musica A che te hai iniziato? Un concerto di Fabri Fibra A 14 anni E mi sono Quindi il tuo trigger è stato il concerto di Fibra Sì ora mi ricordo che quella volta lì tornando in Motorino E dissi cavolo Bello Mi piace Voglio dire questo anche io O comunque quella cosa Che tour era? Tradimento immagino Era Controcultura Ah minchia Sì 2010 Cazzo Sì sì Posso dire? Io reputo il disco più bello di Fibra È vero? Quanto è bello È molto più bello degli altri Secondo me È veramente molto bello Detto così suona male È molto bello È il più bello È il più bello Sì 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 Perché eri in un'epoca Era in un'epoca dove sembrava che stesse per succedere qualcosa nel nostro paese Sì sì Io ho ricordi sbiaditi Perché avevo 14 anni E avevo iniziato a fumarmi tante canne Quindi ho dimenticato Però sì Era un bel disco Quindi da lì Quindi Controcultura con Entix che faceva le doppie Con Vacca c'era ancora Ma che cazzo di Era bugiardo No c'era Vacca E allora era bugiardo No 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 C'era Vacca ma era Controcultura ancora No non è possibile Sicuro? Sono sicuro Mi filo di te Perché te Sono una piccola enciclopedia su queste cose Di parlarti di quei tempi Se c'era Vacca sul palco a fare le doppie Era bugiardo Era bugiardo Se c'era Entix Era Controcultura Cento per cento? Sì Allora basta Era Entix Era Entix? Controlleremo Controlleremo Sì no sono sicuro Sono quasi sicuro Ma tu fai parte di un collettivo Secondo me tra i più virtuosi Della scena rap Sì Sì Secondo me sì Perché a differenza degli altri Lo dico un po' fuori dei denti Vi fate un po' meno pippe Cioè siete un po' meno Un po' meno poser Si può dire Ci sta Sì E come nasce Wild Bandana Si chiama Wild Bandana Credo che l'abbiano fondata Mario Con Easy Vaz Rave Ai tempi Poi noi ci siamo incontrati Diciamo in questo studio a Genova Che si chiamava Studio Stile Dove appunto io andavo a registrare E loro pure E noi ci siamo incontrati lì Quando eravamo 15-16 anni Io non faccio parte di Wild Bandana Anche se ovviamente poi E perché io pensavo Che tu facessi parte di Wild Bandana Sai perché loro dico Wild Bandana Wild Bandana E anche loro dicono Ma no ma tu sei Però gli dico Raga non c'ero quel giorno Non so come dire Però loro dicono Che tu sei Wild Bandana Sì Sì O comunque Sai quando ne parliamo Ne parliamo un po' quasi così superficialmente Nel senso Ma quindi non sei Wild Bandana Teoricamente no E che crew sei? Poi se lo chiedi a loro Tu che crew sei? Io nessuna Nessuna Sono un cane sciolto No vabbè siamo a Drilliguria Siamo a Liguria Drilliguria Minchia che figuraccia Drilliguria Sì Quindi Wild Bandana E Mario Sono Mario Easy Sangue Rave E Vaz Vaz E non vorrei dimenticarmi nessuno Vabbè diciamo i più I principali Drilliguria Siamo io Mario Sempre Vaz Easy Vaz Isme Vabbè siete gli stessi Siamo gli stessi E più due Esatto Meno male è questo Infatti c'è un po' di confusione E' facile far confusione Cazzo E quindi vi siete conosciuti in studio E chi era il veterano del gruppo Quando andavate Il veterano del gruppo forse era Vaz Poi anch'io Avevo già iniziato a fare cose Io so anche se sono il più piccolo in realtà Di tutti loro Sono il più piccolino E Però Vabbè non c'era il veterano Era come se avessimo tutti iniziato Nel stesso anno Capito Perché poi Qualche mese più Qualche mese meno Sì non c'era qualcuno che aveva fatto dischi No no Mixtape No c'erano le mixtape ai tempi Sai Sai benissimo E Quindi sì Qualche progetto del genere In che anno è nata La crew? 2012 2013 2012 2013 Quindi Voi fate parte di quella Quella generazione di rapper Che un po' avevano abbandonato Il freestyle Nonostante Mario faccia Sì Fa freestyle Però eravate la generazione dopo Che era proprio improntata Sulla scrittura dei brani Cioè facevate canzoni Sì Facevano canzoni Fondamentalmente sì Eravamo lì dentro a far pezzi Io freestyle Sono Ecco Quello ero un poser Nel senso che freestyle Andavo i contest Guardavo gli altri Ma Tipo me la vivevo tipo Eh sì Non lo faccio sai Perché la mia compagnia Non ascoltava rap E quindi non avevo modo poi Di allenarmi con loro Con loro Cioè era una questione di allenamento Assolutamente E Quanto le tue radici genovesi Ti hanno Cioè Ti hanno Ti hanno Ti hanno reso quello che sei Ma Credo che Alla fine sono un prodotto Di casa mia Quindi Sicuramente tanto Io comunque ascoltavo Mi ascoltavano Faber Il cantautorato in generale E quindi Mi ha dato Mi ha dato delle influenze Sicuro Essere genovesi Guarda Ne parlavo Forse stamattina Comunque Ha anche una connotazione Anagrafica Mi spiego meglio Genova Lo dico un po' Col cuore in gola La regione La Liguria Era una delle regioni più vecchie D'Europa E quindi Noi La nostra La gioventù Che cresce In Liguria Cresce Comunque un po' deviata Perché ce ne sono meno Sì ma Nel senso che Cresci un po' vecchio Cresci un po' vecchio Ok Lo dico ovviamente Non da vecchio Nel senso Sì 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 Però con una mentalità Una mentalità più appunto Consapevole Un pochino più accorta Cioè se devi farla cazzata da giovane La guardi con un po' più di Di snobberia Certo Lo guardi un po' Come dire Pi vello Certo Pi coglione Che forse è il motivo Per il quale siete un po' meno Show off Degli altri Sì 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 Siete un po' più adulti Ecco mi viene da dire Quella roba lì hai capito Tutto torna Volevo ditelo anche prima Poi ho detto vabbè dai No no ci sta Non lo interrompo Però sì è un po' questo Il discorso Cioè Alla fine Il ceppo della questione Secondo me è quella Siamo un po' più vecchi Eh beh beh ma ci sta Cioè secondo me Vi porta poi A non fare una serie Di stronzate Che magari possono compromettere Delle opportunità Che si possono presentare Sulla carriera Cioè io Mi capita di vedere Tanti artisti talentuosi Attuali Che magari hanno Un potenziale enorme E invece Si perdono In delle cagate Che non c'entrano Niente con la musica All'americana All'americana Esatto esatto Invece voi Siete genovesi Cioè che Più antichi Gente di me No sto scherzando No L'hai sofferto Tanto il cambiamento Il trasferimento Da Genova A Milano Ma guarda I tempi Noi abbiamo avuto fortuna Ci siamo entrati Siete nel 2015 Tutti insieme Allora Nel 2014 Mario Poi io Nel 2015 Perché dovevo finire la scuola E Sapevo già Di arrivare un anno dopo Ecco Però eravamo Una piccola colonia Di genovesi Capito Eravamo io Mario Sonny Wheeler Comi Nella prima casa Poi il povero Mirko è scappato Mirko è scappato Perché era l'unico Che non era genovese Un altro modo Di altri morismi No vabbè scherzo Siamo molto legati E E quindi Me la son vissuta Abbastanza bene All'inizio Era diverso Più che altro Dal punto di vista Territoriale Forse In che senso Quando uscivi Sai pomeriggi Andare magari Spiaggia Al mare Ah certo Quindi c'erano Degli scenari Diversi Diversi Però poi alla fine Sono quelle cose Che impari A Dicare C'è un'ora e mezza Riesci a metabolizzare Riesci a metabolizzare Però quindi un po' Hai sofferto Il fatto di non avere La spiaggetta La cannetta La spiaggetta Milano è una città Che ti vivi bene Quando hai determinate Possibilità Certo assolutamente Se non hai determinate Possibilità Ti spiaggia E' una merda E' una merda Sono d'accordo E quindi Si Ecco quello Ci ha voluto un po' Per carburarle Quelle cose lì Quando Hai sentito Che Questa cosa Della musica Poteva essere Il tuo destino Il tuo futuro Anche lavorativo In un certo senso Guarda Sempre stamattina Parlavo Al primo disco Quando avevo finito il disco E poi l'ho fatto sentire A Sony E hanno fatto La proposta E quindi C'è stata una concretizzazione Di quel genere lì E ho detto Cavolo Ma Sta cambiando qualcosa Sta cambiando qualcosa E io ero lì E ho detto Bella E vi date ancora Una Cioè nonostante Siate un collettivo Tuttora No? Però Abbiate preso delle strade Ognuno ha preso La sua strada Cioè Mario ha preso La sua Si dice Vazze? Vazze Vazze Ah no Vazze Vazze Perché si dice Vazze? Perché Vazze È Vazze Staccato te È il nome di un calciatore Ah Vazze Quindi si dice Vazze? Sì Vazze Sì o Vazze 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 Vabbè Nonostante siate Ognuno abbia intrapreso Una carriera indipendente Cioè vi date una mano Vi beccate Per far ascoltare il disco Prima che esca Sei sempre una compagnia Cioè Poi anche noi Con periodi in cui ci becchiamo Becchiamo meno Però sei sempre una compagnia Capito? Abbiamo creato Come se fosse un gruppo Di amici Dalla scuola Un po' Sì 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 È rimasto Quello è rimasto uguale Ed è un raro caso Perché Cioè io ho conosciuto Quest'anno Mirko Sì E ho notato che ha Forte legame Con Mario Cioè con tutte le persone Con Izzy Con tutte le persone Con cui in qualche modo È nato Artisticamente È nato un legame Quasi indissolubile Che non è riuscito A farsi Corrodere poi Dal Dal Successo Dal successo Anche un po' Dalla competizione Che può nascere Tra artisti Cioè con Alcuni Del Tante cose Tante situazioni Sono implose Tanti collettivi Si sono sciolti Per questi motivi Perché mancavano Le fondamenta Secondo me umane Eh può essere Io non voglio Elevarci Però nel senso So che Comunque Quando noi parliamo Di alcune cose Ne parliamo Con una certa Sai no Un certo sentimento Quindi ci crediamo E diamo in quel momento Una grande importanza Alle parole che diciamo Se poi quelle parole Vengono tradite Allora Non so se è una mia Magari sbaglio Però la mia sensazione È che voi Abbiate vissuto Delle cose Proprio importanti Per voi Magari anche Cose difficili Magari mi sbaglio Però Magari anche Situazioni Di un vissuto Di Tuo Di Izzy Di Mirko Di situazioni Difficili Vi siete aiutati In momenti Difficili E allora Lì sai In quel punto Lì è difficile Sciogliere Un legame Così forte Ecco Esatto E poi comunque C'è una grande sinergia Come ti dicevo Non morale Però Nel senso Sappiamo che non è giusto Tradirsi Quella roba lì Bene 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 E volevo parlare con te Volevo parlarne dopo Però Facciamo adesso Guasto d'amore Che secondo me È una case history Più unica che rara Per un brano Credo di sì Mi vuoi raccontare Come nasce questo brano? Allora Guasto nasce Con un video Fatto In spiaggia Con un mio amico Che va alla chitarra E Un video che è rimasto Sul telefono Per un anno L'anno dopo La faccio Ero sul letto La faccio Il tiravaz Dico Guarda Guarda sto video Che ho trovato Quando scorri Mi fa Cazzo bella Pubblicala E allora la pubblico Dopo aver pubblicato Guasto d'amore Il video Mi contatta Mattia Perin Perché era diventata Virale comunque Tra i genuani Con la canzoncina Quindi Tu hai pubblicato Il video Di te che canti live La canzone Di te che canto Di te che canto Davanti a un tramonto Live la canzone Così Un video È una canzone Che ha 7-8 vite Cioè Perché appunto Nasce con sto video Poi lo pubblico Un anno dopo Poi mi chiama Perin Vado a casa sua La canto Perin produttore Perin calciatore Della Juventus Sportiere Oddio scusatemi ragazzi Io non ho assolutamente idea Del mondo del calcio Ci sta Quindi ti contatta Un calciatore Che vede il video Che vede il video E che cazzo fa il calciatore Le suonava al pianoforte Ah lui suonava Era un quartiere del genere In quel momento Ok Ci fa Cantiamo all'assieme Io suono il piano E tu la canti Ok Facciamoci un altro video I genuani si affezionano Sempre di più Mi fanno Cioè mi fanno Fanno a guasto La coreografia A fine campionato Cioè il genuano Retrocede in serie B In che anno? L'anno scorso L'anno scorso Il genuano retrocede in serie B E sai per moto D'orgoglio Come dire Ci siamo Ci siamo Vi sosteniamo Anche se avete fatto cagare In sostanza Ok Ci siamo Facciamo la coreografia E scrivono guasto Cioè fanno scrivono le frasi di guasto Che tipo Quando il sole tramonta Senza salutare Bellissimo Gli stessi colori che cadono in mare Quando solitamente Senza salutare Quindi anche lì Coreografia di tutta la gradinata E per me Che capite Sono conosciuto lì E' una roba incredibile E' una roba Che ancora ora Ovviamente non realizzo E dopodiché Scrivo la prima strofa Insomma la faccio nei concerti Va virale su TikTok Va virale su le varie piattaforme La gente ha i live La sa memoria Perché io ancora prima di sentirla Vedevo dei video tuoi Su TikTok Che la cantavi E non riuscivo a capire Da boomer Non riuscivo a capire Certo Dove cazzo la trovo Sta canzone qua Sì sì Non esisteva Infatti poi C'è un video Dicevo L'algoritmo Che non esiste Capito Il nuovo algoritmo Cazzo che è incredibile Quindi è E' vissuta Per quanti anni Un botto Tipo tre anni Tre da tre anni Tre anni Che gira 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 Nasce Muore Rivive Rinasce Bellissimo Nasce Incredibile E poi successivamente È uscita Recentemente E anche lì Hanno fatto Quelli del Genoa Hanno fatto Adesso la stanno usando Ogni inizio partita Ok Si spengono le luci Dello stadio Sera Altrimenti E tutto lo stadio La canta È diventato l'inno Una specie di inno Diciamo L'inno del cuore L'inno del cuore Sì Non quello magari Ufficiale Ufficiale Dell'azienda Non l'inno della società Ma l'inno dei tifosi Che è la cosa Roma 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 Di venditti È la cosa più bella Senza paragonarmi Al maestro Ci mancherebbe altro Pensa te che roba Ed è una roba Sconvolgente Vabbè Io figurati Ma c'è Voglio trovare il video Su youtube Sì sì C'è c'è Così Che roba incredibile E da questa roba qua Poi Forse è il tramonto Che ha fatto vincere il video L'atmosfera sicuramente Ha aiutato Alla creazione della canzone E chi girava il video? Io Ah tu cantavi Intanto giravi il video Perché è uscita Essendo uscita Proprio così Ho detto Aspetta la filmo Così non me la dimentico Vabbè ma dai Ma che storia romantica Storia romantica È veramente Credo Il brano Con la storia più romantica Che abbia mai Avuto modo Di discutere A questo tavolo Grazie Adesso devo far così Ok Sono diventato bravissimo E Cavoli E adesso Cosa si fa Cioè dopo Dopo una canzone Che ha Una storia più unica Che rara Come si va avanti? Si smette Subito No sto scherzando No dai come vai Avanti Cioè è difficile Ma oddio Continuo a fare Quello che si vuole fatto Alla fine Poi insomma Per dire il disco L'ho scritto dopo Mi direi Chiaro non era uscita Quindi non c'era Laure intorno Però si Si va avanti Sicuramente Una cosa è vera Il fatto che Io Se devo immaginarmi Da bambino No Insomma Da bambino Sogni di fare gol Sotto la gradinata Sai no? Certo Tante da dire Comunque Stoiamo di fare Il gol sotto la gradinata E ad oggi Invece Vedere che la canzone La canta È un obiettivo Che Dentro il mio cuore È tipo Il mega obiettivo No? Cioè per me ho vinto Tra virgolette Infatti cerco Di non realizzarmi Di non realizzarlo Troppo Sta cosa Se no Perdo le energie Cioè dici Dopo non ho Dopo questo Esatto Cos'altro posso fare Beh ma puoi fare Cioè non hai pensato Di fare un concerto Allo stadio Ma Sicuramente Se dovesse andare bene Quest'anno Perché il genere Adesso in Serie B Ma sta Sta galoppando Ci sono le possibilità Di tornare in me Non voglio Non dire Ci sono Potrebbe essere Non succede Ma se succede Esatto Non succede Ma se succede E me l'han detto Me l'han detto Anche se io Poi sono sempre Un po' scettico Nel fare le cose Diciamo Allo stadio Così Perché sai Mi sembra troppo Marchettoso Cioè no La mia faccia Allo stadio Ma io parlo proprio Di un concerto Allo stadio Un concerto allo stadio Si potrebbe fare Bisogna riempirlo Ovviamente E ma mica Con tutto sto successo Se lo fai a Genova Si si Ora a Genova Ci sono due sold out Due sold out Adesso del porto antico Comunque sono Bellissima location Credo di averci suonato Anch'io Secondo me si Quella che passa Indietro le navi Si 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 Molto bella Molto bella Però si no Ci penseremo Allora E allora Niente Continuerò a fare musica Continuerò a fare le mie canzoni Come ho sempre fatto Bene bravo Alla fin fine Sono momenti Sì Possiamo raccontare Il nostro aneddoto Vai Allora Io e lui Fuori onda Devo dirti una cosa Perché fuori onda? Perché Di bella in onda Poi la tagliamo al limite Al limite la tagliamo Allora Io e lui Come ci siamo conosciuti Era Giugno? Sì Era No prima Prima No perché Giugno è uscito il pet Maggi L'aprile Allora la roba è che Brescia ha rischiato Di essere dentro La dolce vita La scorsa estate Sì Perché Io ero super fan Cioè io sono super fan tuo Ma in particolare Del brano Angelina Jolie Che era La hit Dell'anno scorso Ecco Angelina Jolie Quando è uscita Angelina Jolie Avevi già fatto questo video? Sì Quindi in parallelo Stava andando Stava andando pure l'altra Incredibile Questa cosa Mi È una roba Troppo Cioè Bella musicalmente parlando Proprio il potere Della musica E Vabbè Quindi Ci sentiamo Io Non mi ricordo Stavo andando Al Met Gala A New York Mi ricordo Sì sì Ero in aeroporto E ci conosciamo E dico Cazzo guarda C'ho sto pezzo C'era già la Mara Dentro Credo Sì c'era già Mara Credo E Lui mi dice Guarda il pezzo Mi piace Però Devo pensarci Devo capire Devo capire Un po' di robe Alla fine Ci ho pensato troppo E È tipo andata così È tipo andata così Mi ricordo questo Ciao Brush Oro Blu È primo in classifica Questa settimana La settimana D'uscita C'è Abbiamo questo pezzo E dico Bello Ci penserò Ovviamente Il ci penserò Su un lavoro Così grosso Per me Come te l'avevo già detto Era il Faccio una roba Fatta bene Ok E poi vado subito A fare Un progetto Ah ma è vero Tra per esempio Tu c'hai pure scritto Sul pezzo Hai fatto una strofa Della Madonna Cazzo è vero Mi ero dimenticato Di sta cosa qua Cioè esiste Una versione Della dolce vita Con la strofa di Brash Che è una hit Cazzo Chissà se la trovo Aspetta Se la trovi La facciamo sentire Sì Dai godere Dai ci sta Posso Se mi dai il permesso E qui niente Mi dice Facciamo sto pezzo Io avevo paura A fare Lo racconto Ai nostri telespettatori Io ce l'ho Ce l'ho Tu da spettatori Ce l'ho Aspetta Posso Certo Spiega prima Poi la facciamo ascoltare Mi dico Fai Un grande progetto La hit estiva Di Fedez Ovviamente Che culo Però è sicuramente Una roba molto grossa Cioè è una roba Super esposta Allora dato che io ho paura Della sovraesposizione Cosa di cui Io non ho assolutamente paura Allora io ho detto Fermi un attimo Perché poi Io faccio questo ragionamento qua Se io prendo un pubblico Che diciamo Inizialmente non è il mio È un pubblico friabile Cioè parlo da imprenditore Ma è più una questione umana La mia Sì sì certo Allora è un pubblico Che non mi appartiene Poi io quando faccio uscire Il pezzo dopo Capito Perdo tutto Perdo tutto Perdo E allora dico Aspetta Fammi cenare Ragionare Capito Come quando ti dicono Vai a Che ne so Qualcosa di grosso Questa era una cosa grossa E allora ho detto Ragazzi Cos'è che avevo detto Una roba impensabile Partecipo In quella video call Con tutti i guardi Partecipo Ma non voglio essere Nella comunicazione Hai detto una roba Che non l'ho capito Fai partecipo Ma non voglio essere Nella copertina E io ti ho detto Frate guarda Che se devi farlo così Non ha senso Ma ne per me Ma soprattutto per te Sembra che non ci credi Stefano Clessi Stefano mi fa Vabbè tu fallo Poi ci pensiamo Allora io mi ricordo Che era il primo maggio E tipo ho passato Un primo maggio Tipo così Lo faccio Non 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 lo faccio E devo dare gente Lo faccio Ma sì fallo Lo faccio No lo faccio Perché poi gli spiegavo Le mie motivazioni E prima di Di spiegare Tutti mi dicevano Sì fallo Poi gli spiegavano Le motivazioni No non fallo Non farlo Non sapevo un caso No ma guarda Col senno del poi Ogni ragionamento Aveva senso Cioè nel senso Poi la Io ragiono in maniera diversa Ma rispetto a te Non ho paura Sono nato Artisticamente Sovraesposto Però comprendo Perfettamente Il timore Che hai avuto tu E che puoi avere avuto tu In quel momento lì Però io credo sempre Che nell'estate Soprattutto i pezzi estivi Siano fatti proprio per Una vita Sì per divertirsi È vero È proprio Devi divertirti E poi è una parentesi Che si chiude E si riapre Sono d'accordo Non avevamo parlato Di questo Mi ricordo Cioè infatti poi E è venuto Tananai Non è che ha continuato A fare i pezzi Anni 60 No certo Ha fatto abissare Ha fatto delle robe Anche alte Da un punto di vista musicale Vabbè vi faccio sentire La strofa di Bresch In La Dolce Vita Bellissimo Perché poi la strofa L'abbiamo fatta A sette Una canzone Non me la ricordo Aspetta Entravi una barra dopo Sì Troppo bisogno Di genita Senza amore Bellezza Era una bomba Ma era una bomba Riciclala subito Riciclala subito Riciclala subito Era bellissima Mi sono ritrovato Su un vintage italiano No bellissimo Era cura di Battiato Poi bello Molto molto figo Pensate che Bivio Potevamo farci Un'estate insieme Ci saremmo divertiti Però sono contento Alla fine Di questa decisione Perché all'avete visto Una canzone Come Guasto Che è stata Conosciuta anche A livelli buoni Ma ha dato Un pubblico Che però riguarda C'è il più consolidato C'è il più tuo Più tuo Assolutamente Alla fine Scusami No figurati Sì 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 Alla fine Sono anche stato contento Ho ciò pensato Cioè Federico Non ti nego Ebbè è giusto Cazzo Chissà Chissà Ebbè è stata una bella esperienza Io mi sono divertito Anche nello scambio Che abbiamo avuto io e te Quindi è stato figo Adesso esce un singolo nuovo Esce un singolo nuovo Esatto Titolo Si chiama altamente mia Quindi quando Quando uscirà questa puntata Il singolo sarà già uscito Sarà già fuori Sarà già fuori Tu sei uno Di quelli Che si 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 dà delle aspettative Sull'uscita di un brano Te ne sbatti il cazzo No prova a sbattermi il cazzo Poi ragazzi È impossibile È impossibile Cioè Vogliamo dirci Vogliamo dire la verità È chiaro Come l'altra volta Che alla Wazzabasement Mi hanno detto Cosa ne pensi Il giudizio degli altri Ragazzi Ora Ne abbiamo c'è la testa Che il giudizio degli altri Non interessa a nessuno Cioè Nel senso Si 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 Però nel momento In cui ti esponi A un pubblico Esatto In qualche modo Vuol dire che Qualcosina Ti interessa Dipende quale pubblico Quale Quale target Certo Però Voglio dire Anche se vuoi essere Quello odiato Non so Ti interessa sapere che Cioè Ti gasta essere odiato Certo Certo E quindi Che aspettative hai Su questa nuova canzone Ma Delle aspettative Veramente Calcolate Che significa Che non le calcolo Perché Perché se no Veramente potrai ricevere Potrai ricevere Delle belle sorprese Se non le calcolo Oppure no Quindi non le calcoli Sì no Non le calcolo Quindi Ho delle buone aspettative È un pezzo che mi piace È un pezzo che mi piace E non vedo l'ora Di fare i prossimi Diciamo È un pezzo Come stile Come stile Oddio C'è una chitarra rock Che poi abbiamo cambiato L'abbiamo reso Un pochino più Moderna È una canzone italiana Non è Non c'è tanto rap Le strofe sono abbastanza corte E quindi È una mia evoluzione Tu hai preso questa strada Un po' Acustica Non so come cazzo dire Musicale Musicale Di fare Pop Di fare canzoni Piuttosto che Il radicalismo del rap Piuttosto che Sì 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 Certo Non ti ci ritrovi In quella cosa Non è che non mi ci ritrovo Perché poi alla fin fine Io lo ascoltavo Quando sono bambino Il rap Anzi ragazzino Non bambino Da bambino però Ascoltavo appunto La roba che mettevano i miei I cantautori Eccetera eccetera Quindi È un po' come ritornare a casa Cioè non so come dire È un po' come Unire quello che hai scoperto prima E quello che hai scoperto dopo E farne la tua roba Certo Quindi sì Mi ci ritrovo Mi ci ritrovo Nella canzone Nella melodia Nella musica Così mi piace Cioè Odiavo quando non so Ai tempi Magari fare il pezzo Fare il pezzo Con il ritornello Era visto un pochino Tipo in quegli anni Cos'era 2010 2011 Già si stava sdoganando Però C'è stato il periodo In cui fai il ritornello Beh sì C'è stato il periodo In cui Se facevi il pezzo pop Ti stavi Ti stavi vendendo Ti stavi svendendo In qualche modo Esatto Oggi Fortunatamente Non è più così Ti puoi permettere Di fare una canzone pop E subito dopo Se sei un artista urban Fare Il pezzo urban Basta guardare L'Alza Ha fatto uscire Cenere Che è Una super hit pop E adesso Zonda Che è Non so che genere Sia drill Credo sia drill È una drillata È una drillata E tu Pezzi drill Li avevi fatti No Non l'ho ancora fatto Perché mi sorge spontanea La domanda Ma perché cazzo Vi chiamate drill Liguria È una cosa Che No ma perché Nasce Nasce così Ai tempi Si ascoltava tanto La scena di Chicago Chief Kiff L'OTF Eccetera Eccetera Allora Drill Liguria Suonava veramente bene Poi vabbè Loro la facevano Tipo non so Quel genere di drill Che non era drill Gli UK drill Che queste batterie Tutte sincopate Eccetera Eccetera Era un'altra drill Ancora Era più Un sbiascicare No E tipo Ora non proprio Sbiascicare Però Quello di Chief Kiff Era più o meno così E quindi Watz Mario E loro Capito Ogni tanto La facevano Andavano su quella roba Lì Drill Liguria È uscita credo Da loro Da Mario Mi ricordo Però suonava bene E allora Drill Liguria È come se fosse La nostra Drill Capito Anche più Ovviamente Con il nostro stile Però in realtà È molto confondibile Certo Crea confusione In ordine cronologico Nella vostra crew Il primo a emergere È stato Mario Allora no Il primo è stato Easy Prima Easy di Mario Sì Easy ha fatto il film Easy ha fatto Il film Certo Io ero alla presentazione Mi ricordo Anche io Sì Io non ero molto apprezzato Alla mia presenza Io vi ricordo Guarda Vi ricordo questa cosa Perché Perché sono sempre stato Un po' Una pecora nera Poi in quel periodo Particolarmente Devo dire Che cazzo è cambiato No Mi ricordo questa cosa Che Non so se tu hai questo ricordo Però Durante la proiezione Di questo film C'erano i cameo I cameo Di vari rapper No Che quindi c'era Noiz C'era Salmo forse Salmo Un sacco di rapper Vabbè Ogni volta che appariva Un rapper Tutti facevano Tutta la sala Applaudivano Mi ricordo Che sono apparso io Silenzio Un silenzio Ho detto Bene Non ho neanche finito Di vederlo Te sei dentro Z al film Io sono dentro Z al film Faccio Faccio la parte Credo di me stesso Comunque di quello Di quello che ha fatto I soldi Tipo Con la musica E recito insieme A Salvatore Esposito Di Gomorra Ah ok E Tempere Già uscito Gomorra Sì 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 Credo ci sia Io e lui E facciamo la parte Degli imprenditori Ok Sì tipo Del gatto e la volpe Sì Che vogliono Non so Fare i soldi Con la musica Sì mi ricordo Mica in quella festa La scena dentro la casa No No forse eravamo In una discoteca E bravo esatto In un club In un club E vabbè Sa di fatto che mi presi Talmente male di questa cosa Che non ho finito Di vedere il film Ah sei andato via Me ne sono andato via Io rinfresco Col cazzo Come hai vissuto Vedere Viagli che spaziavano Prima di te Sì Viagli che spaziavano Sincero Sincerissimo Solo sincerità Che non fa sempre bene Ma in realtà sì Eh sì Non fa sempre bene No sincerissimo Ti dico Ero In modalità Che io mi aiuti Cosa vuol dire È anche il titolo Del disco Del mio primo disco Tra l'altro Cioè Ero in Grandi raga Tanto se lo meritano Dal punto di vista artistico Perché comunque Ragazzi Sono forti Cioè Quella è la prima cosa Quindi rendersi conto Di avere E anche il piacere Di avere persone Nella famiglia artistica Che sono veramente forti A livello nazionale E che hanno una caratura Un peso E poi appunto La voglia Di trovare Anch'io Il mio stile La mia La mia Personalità Che magari Già c'era Però non era sviluppata Non era Certo Ma un po' di paura Cioè Non Vabbè certo Un po' di paura Di rimanere indietro Che magari ti ha dato Quella carica in più Per Sì forse Forse Ho dato La carica in più Però Sai quando tu sei La notte Che stai per Adormentarti È normale Che Tipo Non so Quando pensi A tante cose Ci metti anche La cosa negativa Certo Certo È normale Che dicevo Chissà Se non dovesse succedere Però A quel punto lì Appena mi veniva Quella scintilla lì Ne facevo partire un'altra E dire Allora no Devo fare questo 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 Sì 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 Devo fare un disco Devo fare Ma soprattutto Con il mio stile Non devo Prima cosa Non si copia Anche perché Le doti tecniche O ce l'hai o non ce l'hai E quindi Prima cosa Non si copia Devo avere la mia La mia personalità Cioè pensavo Quelle cose lì E sapevo che Finché non avessi fatto uscire musica Perché poi ne avevo fatta uscire poca Di musica Chiaro Se non facevo uscire musica Non succedeva male Quindi finché non usciva musica Eri tranquillo Eri tranquillo Sì sì Devo dire Una cosa analoga È successa anche a me Nel senso che Io ero nella crew Di Emi Schilla Lo ricordo Blocco Records Ah E te ne blocco records Io guarda Io e Lazza Avevamo Lo stesso tatuaggio Cioè nel senso Io qui sotto Esattamente Avevo il logo Della Blocco Records Pensate Che ho coperto E anche Lazza Ha il tatuaggio Della Blocco Records Coperto anche lui L'abbiamo coperto entrambi E Eravamo in blocco E io vidi Il mio amico storico Con cui Cioè Sono cresciuto artisticamente Fare successo Ma stai tranquillo Fare successo prima di me Emis Sì Che da un lato Ti dico Nesso Mi ha fatto rodere il culo Io sono proprio sincero Cioè mi ha fatto rodere il culo Al punto Da Cioè Rifiutare di andare a fare le doppie concerti Cioè mi sentivo Non volevi essere il Non volevo fare la comparsa La comparsa Ok Però quella cosa Mi ha dato la carica Non di fare l'invidioso Di merda Che Che lo manda a fare in culo Ma di dire Vaffanculo Poi ovviamente io Come tutto il solito Abbiamo litigato Ovviamente poi Emis Chilla Però ricordo una frase Che mi stimolò un sacco Di Emis Che mi disse Una frase carina Che era Tu da oggi Perché litigammo Non mi ricordo per cosa E lui mi disse Uscì dalla crew E mi disse Tu da oggi sei un cieco Senza il cane guida Minchia E quella frase lì Ma io devo ringraziarlo Per quella frase Perché nonostante fosse forte Però mi ha dato lo stimolo Di dire Ah sì Sta a vedere Ah sì Ma vi spacco il culo a tutti E ho fatto Dopo quella roba lì Ho fatto penisola che non c'è Che è stato il disco Che mi ha Mi ha lanciato Lo ricordo Lo ricordo quel disco Penisola che non c'è Lo ricordo Sì sì Poi dopo è riuscito Tutto al contrario Tutto al contrario Era dentro penisola che non c'è Poi è uscito Tutto al contrario Remix tape Remix tape Quello blu Con la copertina blu Quello con la copertina blu Che in realtà Era una cosa fatta Perché non avevo Abbastanza pezzi da portare Dove dici Belenco i denti da castoro Dov'è che lo dici? Tutto al contrario Penisola che non c'è Tutto al contrario Penisola che non c'è Mi ricordo C'è stato E ti volevo fare Un'altra domanda Riguardo a A Genova E al rap in generale Perché Il primo rapper Genovese Ad emergere È stato Moreno Certo Che secondo me C'è il mio parere Riguardo alla visione Moreno Che è stato Uno degli agnelli Sacrificali Di un Di un certo tipo Di mentalità Che non c'è più Cioè Lui è nato Come freestyler Innanzitutto Lo conoscevi Lo frequentavi? Certo Lo conosco ancora ora Ah ok Non ci sentiamo più E quindi sì Però mi ricordo Che forse Cos'era Come una bomba Confusione Scritto da Fibra Scritto da Fabri Fibra E con manager Shablo No Manager Paola Zuccar Manager Paola Zuccar E Shablo cosa c'entrava? Qualcuno c'entrava Paola Vai Shablo C'entra sempre qualcosa C'entra sempre qualcosa È vero È vero Grande E niente Oddio Sì noi Pensa io e Mario Ti racconto quest'anno Rispetto a Moreno Perché poi non so Effettivamente cosa dirti D'altro di Moreno Ti racconto però questo Andiamo a vedere Il concerto di Moreno All'Alcatraz Ok Dopo amici Dopo amici Alcatraz Io e Mario Partiamo con l'appunto di Mario Io e lui da soli Arriviamo a Milano 2014 Arriviamo a Milano Per vedere questo cazzo Il concerto Dormiamo Stiamo con Moreno Moreno Era con Takagi No? E andiamo Io Mario Moreno e Takagi In studio In Bass Sound Mario non aveva fatto Ancora uscire niente Io tantomeno Solo due vecchi mixtape Di quell'epoca là Faccio ascoltare Gaston A Takagi Che era una canzone Fatta su un beat Di Kanye West Future E Takagi diceva Bella Basta Finisce la sessione di studio Moreno e Takagi Vanno via Io e Mario Rimandiamo A piotte a Milano Vi abbandonano Vi abbandonano Io e Mario Rimandiamo da soli a Milano E lo sapevamo Da che parte girarci Nel frattempo Ci si scaricano i telefoni Quindi niente navigatore E basta Avevamo giusto Delle sigarette Delle canne Insomma Cosa succede Succede che dovevamo Cercare la casa Di Ercomi Perché era l'unico Salvataggio Che avevamo L'unico appunto D'appoggio Si era evidente Che nel 2014 Io non conoscevo Ercomi E Mario Non lo vedeva Da una vita Ok Mario si ricordava Che stava lì In quella via Eccetera eccetera Via calveirate E quindi In chi ci mettiamo Facciamo tipo Tutta la circonvallazione Questo dura Dalle due di notte Alle cinque del mattino Facevate prima dormire In mezzo alla strada Non so cosa sia successo Finiamo in piazza Siamo finiti tipo a Origio Ci ricordiamo sto cartello Micchia Origio Hai detto da Genova Che cazzo è Origio Non lo so Alla fine finiamo In piazzale Oretto Alle sei del mattino Cinque e mezza Quello che Diciamo Scusi Piazza Grandi Dov'è Il tipo ci indica Ci fa fare tutto via Le Molise Tutto via le Campania O forse no Via l'Abruzzi Via le Umbria E Ci fa arrivare Ci fa arrivare davanti A casa di Ercomi Quindi Ercomi ci apre Suoniamo Ercomi alle sei del mattino Apre Vede Mario così Me dietro così Che c'era Andrea Quindi io lì conosco Ercomi A proposito di Moreno Quindi grazie a Moreno Avete conosciuto Ercomi Grazie a Moreno Ho conosciuto Ercomi E poi il giorno dopo Che sono andato Takagi Mi aveva detto Se mi produceva Mi aveva proposto Di produrre Che saluto Tra l'altro Grande Taka Amico E Mi produceva Quel pezzo lì Gaston Eccetera eccetera Poi non se ne era fatto Più niente Però mi aveva fatto Impressione E voi dopo aver visto Moreno E il successo Comunque Che avevo avuto ad amici Avete pensato All'ipotesi Di partecipare ad un talent Non credo Forse Moreno Aveva partecipato ad amici Sì Cazzo sì È vero Sì Sicuro No sì Sì Però io no Tu no Ma non perché Non sapevo Non ero ancora Non ti sentivi maturo Non mi sentivo maturo No Non la prendevo neanche come Cioè dovevo fare altro Prima di pensare a un talento Chiaro 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 Dovevo fare molto altro Tour Quando parte Allora Tour parte il 2 giugno Con l'estivo Non so le date a memoria Vabbè no Si trovano sui social Abbiamo tante date Ci abbiamo sui social Abbiamo il Carroponte Sold out Carroponte sold out Figata Non hai mai suonato Il Carroponte No mai Nemmeno ospitato Da altri artisti Nemmeno ospitato Bello Bel posto Bel posto Bello Molto bello Vamos Genova anche sold out C'è la seconda data Che mancano 300 biglietti circa Quindi Ho corretti numerosi Terza data sold out La seconda La seconda scusami Seconda data Milano invece So che il Carroponte È grosso Carroponte Sì Sono 9000 persone Con una struttura Tutto un po' Ex fabbrica Rifatta Molto Rifatta Concerto Diciamo Tipo Sembra il K Future Festival Non so cosa sia Il K Quello Il Festival Tecno Che fa la Torino Certo Ma certamente Il K Tipo Tipo Il K Future Festival E che tipo di formazione porterai Sei uno da band Sono uno da chitarrista In questo caso Ok Solo chitarra Sì siamo io Shune Dibla Shune produttore E DJ in quel caso Dibla chitarrista E produttore Quindi siamo io e lui sul palco Io e Dibla Con Shune alla console E niente Poi ci saranno delle ospitate Anche a livello di strumenti Possiamo fare la dolce vita Possiamo fare la dolce vita La gente impazzirebbe Mi immagino Da fuori Il tuo pubblico Non vede l'ora Di sentire la dolce vita No vabbè Ma sai Anzi Sarei più pippe mie No vabbè Spettacolare Quindi niente Cioè È un assetto un po' atipico Nel senso che Sì non è band DJ 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 è chitarra Quindi la parte ritmica Te la manda In sequenza Esatto Esatto Sì sì Non è chitarra Non è diciamo band Chitarra Batteria Bass Anche se ti dico la verità La batteria c'è Perché ogni tanto interviene E la suona E la suona Ah ok Quindi lui la suona La suona Scende e suona la batteria In alcune occasioni Poi io vabbè Porterò uno show diverso Nel senso che anche io Mi metterò a fare qualcosa Suoni? Sì qualcosa Tu suoni strumenti? No non suono niente Ah e allora Sto pensando di fare qualcosa Tipo Non voglio dire niente È red Perché sono in corso d'opera Sono in corso d'opera Ok ok Capito Quindi capito Per non fare Capito 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 Per non fare troppe figuracce Poi magari nel momento Del show Ti stai studiando qualcosa Forse studieremo qualcosa Ok impari a suonare la chitarra Sì qualcosa della chitarra La sto a suonare Ma altro Mi piace l'idea di Dei timpani Ah quindi Mi viene in mente Una Francesca Michelin Che suona il tamburo Mentre canta Ma figore Sì Sì Mentre canta suona Credo si chiami tamburo Sì tipo Quella grossa Il timpano Sì No il timpano è un'altra cosa Credo che il timpano Sia un'altra Il timpano è la Il timpano È il timpano Il timpano Se no guarda Se non ti viene da fare un cazzo C'è il triangolo Ah beh Quella C'è il triangolo Io quando ho fatto San Siro con Axe Io suonavo la chitarra E Axe suonava Non è vero Ti giuro Suonava il triangolino Per far ridere ovviamente Certo Ti viene da fare comunque Come un giorno in pretura qua Sì ti viene di brutto Da fare come un giorno in pretura Mamma mia Tutta la puntata Che è Solo lo faccio E tu hai altre passioni Oltre alla musica Cioè il calcio immagino Allora il calcio Anche lì il calcio Sì il calcio Però Cioè sono ultimo Al fantacalcio Non è che proprio Sono un cultore estremo Del calcio Sono più Sono più amante Di andare allo stadio Che i miei amici Ecco Di fare un po' il becero Lì ecco Quella roba lì Mi tiene vivo E altre passioni Altre passioni Beh Ovviamente Viaggiare E poi sono un po' Uno di quelli Di tutto un po' Di tutto un po' Sono un po' Di tutto un po' Prima ero appassionato Anche alla politica Poi purtroppo Ci sono state cose Che come ogni adulto Che si rispetti Non che io sia adulto Ma come ogni percorso Di crescita Di Come si dice Quando Di delusione Quindi sei disilluso Ormai Disilluso Chiaramente Non che fossi Schierato No però appassionato Mi interessava Infatti io comunque Apprezzo anche te Che sei uno dei pochi Forse l'unico Che hai riuscito A creare A fare La scintilla di battaglia Grazie Ti ringrazio No davvero Bisognerebbe Creare Delle piccole Delle massonerie Nostre Artistiche Io lo farei Per provare A Non ti dico A fare la rivoluzione Che è una cosa Che comunque Mi vale in tasso Da sempre Perché è una parola Bellissima Però Che ne so Magari che Se dovessimo mai Cambiare Se nella vita Riuscissi a cambiare Un paragrafo Sull'istruzione Sì sì A cambiare qualcosa A cambiare quella legge Lì da dire Insegnate queste Ragazzi Così almeno Sì riuscire a fare Qualcosa di concreto Sì Quella cosuccia Capito Senza essere Perché comunque Concordo Gli unici che ad oggi Che hanno un appiglio Sui giovani Sono I giovani Quindi gli artisti Eh sì sì O gli influencer Insomma quella gente lì Questa gente qua Sì è vero Si è un po' persa La connotazione Cioè la piazza Non esiste più No Non esiste più Scendere in piazza Perché se no Sei additato Perché se no Sei Passi in automatico Dalla parte del torto Perché i media Sono quelli che sono E quindi Cioè bisogna trovare Un escamotage No Sì 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 Ecco però mi viene Da farti una domanda Secondo te come mai La nuova generazione Di rapper È totalmente disinteressata Perché c'è paura Perché è tutta una paura Perché comunque L'esporsi L'esporsi oggi Ragazzi È una fucilata Eh sì certo È per quello che ti dico Bisogna farlo dall'interno E quasi non dall'esterno Quindi tu dici Io ho più la sensazione Che sia proprio Che non gliene fotta una sega Allora non gliene fotta una sega Primo Ok Ok stiamo d'accordo Però a chi gliene fotta qualcosa Da lì magari quel giorno dire Però non pubblica Capito Sì 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 Cioè infatti Se dovessimo mai Se potesse cambiare qualcosa Un giorno Bisogna farlo Dietro i riflettori Non sotto i riflettori Certo Cioè nel senso Prima organizzi tutto E poi lo fai E poi bombisci col piano Capito Vi per vendetta Vi per vendetta praticamente Non lo fai Non è che dici Oggi faccio la storia Incazzato Sono incazzato Perché Sei rovinato Cioè tu lo sai benissimo Io faccio così Tu fai così Però te vabbè Lo fai anche in maniera lucida Ogni tanto Dipende Muoverti anche Spesso e volentieri Sì sì Non mi preoccupo Non ti preoccupa Cioè tra le mie Come mai No diciamo che tra le mie Nelle mie cose Da nascondere O da mostrare Ecco diciamo Tra la lista Delle cose Che voglio mostrare Al pubblico Non c'è La virilità Cioè non c'è Il fatto di fare Io credo che potrei Comprare più gioielli Di tutti i rapper Della scena italiana E ficcargli L'inculo La mazzetta Uno per uno Però Non mi Non mi galvanizza Nonostante abbia avuto Un periodo di crisi mistica In cui le collane Gli orologi Me li sono Me li sono comprati anch'io Però l'avevo un po' Sì sì no certo No no Era più la roba Sì Quello sono d'accordo Grande Anch'io sono Quindi cioè Preferisco magari Fare una story Dove parlo dei cazzi miei E mi commuovo E comunicare Un certo tipo di cose Sì sì ok Da quel punto di vista Piuttosto che Passare le giornate A flexare Roba inutile Certo Ma anche perché Poi indirettamente Alla fine È come se Si vede già Nel senso Ah tu dici Si sa già Può essere Che bisogno No Dal punto di vista Politico Dal punto di vista Politico Comunque tu hai Hai la voglia Di rompere i coglioni Ma perché Sono Sono Fortemente interessato Alla politica Cioè Sono un appassionato Sono stato militante Da giovane Sono stato militante Non ti chiedo dove Centri sociali Si chiama Centro sociale Via Monterosa Cantiere Di fianco a Cantiere Io facevo Varie cose Oltre a fare freestyle Certo Varie cose Varie ed eventuali Facevo delle cosine Facevi anche qualche azione Andavo alle manifestazioni E si faceva delle robe Io devo stare attentissimo A quello che dico Perché se io dico Che da giovane Hai dipinto Ho dipinto una roba Domani mi esce l'articolo Grosso così Fedez Andavo a fare manifestazioni A dipingere Le vetrine Dei Rolex Capito Quindi No 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 Mi ha formato Politicamente Cosa Non ho dipinto niente Non ho dipinto niente Vi ricordo che è uscito Il singolo Altamente mia Di Bresh Con un super video Girato In giro per il mondo Un video Tipo un vlog Un video vlog Ringrazio Bresh Per essere stato con noi Ci vediamo Nella prossima puntata Di Muschio Savage Ciao Ciao